Per noi è un momento di gioia, un momento di tre giorni che ha visto tanta partecipazione prima lo difficoltà anche a partire dappertutto, questo è un segno forte di come questa società sta investendo su questo territorio, c'è una struttura che credo valga tanto e possa essere un valore aggiunto. Un ringraziamento per mettere ai nostri operai all'ufficio tecnico che hanno permesso di vedere questo spettacolo oggi, hanno lavorato fino all'ultimo anche se in condizioni medio, ogni tanto in Inter lo bevano, ma vedete è uno spettacolo di verde dentro e fuori dalla struttura. Per noi è un piacere e un onore che siate tutti qui e non dimenticheremo mai chi ci ha preceduto e chi ha voluto fortemente che questa società è un gioco, ci sono le squadre che si sono classificate prima. Grazie a lei sindaco, adesso un saluto dal consigliere provinciale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, mister Riccardo Nerone. Buonasera a tutti, sono orgoglioso come l'anno scorso di essere a fianco Alfredo e a Massimo. Massimo c'è e ci sarà sempre. Sarà sempre dentro questi ragazzini. A noi ci insegnano quotidianamente, sia sul campo e soprattutto a scuola, nella vita, ci insegnano a crescere anche quando sbagliamo noi come istruttori, come genitori. Spero che la manifestazione